Musica Ben arrivati, io sono sempre contento quando vedo il navigatore uomo al canto e i colori di classe R3T Caprieri Casandelli poi sarà qua Un divertimento quindi a Valeriano che è il rondamento chiamato Valerio quindi vi seguiremo da vicino queste tre equipaggi che prendono parte al trofeo Un'altra Un'altra Grazie a tutti. 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 E allora, eccoli qua, sul gradino più alto del podio si aggiudicano questo primo Castelli Piacentini, Andrea Mazzocchi con Silvia Gallotti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoli lì. Grazie a tutti. Grazie a tutti.